Gesù e Maria state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare io vi benedica e la santa vergine vi protegge laudentur jesus et maria amici carissimi bentornati questa è la quinta puntata del ciclo di catechesi apparecchio alla morte a differenza di quanto appare nel nel titolo della della diretta che sta dando in onda su youtube c'è stato un errore non è la quarta ma è la quinta puntata questa è la quarta considerazione quella che affronteremo questa sera ma è la quinta puntata perché nella prima ci sono state a parte l'introduzione è molto molto ampia e poi soltanto una parte della prima considerazione quindi le puntate non seguono esattamente l'ordine del testo perché al momento stanno una indietro quindi se è la quinta puntata o meglio le puntate stanno una avanti se è la quinta puntata vuol dire che stiamo al quarto capitolo del testo del nostro caro e grande maestro sant'alfonso questa sera apriamo rapidamente senza troppi preamboli perché così riusciamo a mantenere il passo con i tre punti di ogni considerazione alla quarta considerazione che si intitola certezza della morte statuto mesto minibus semel mori sottotitolo che è un passo della lettera agli ebrei che tradotto significa è stabilito per gli uomini che muoiano semel cioè una sola volta si muore una volta sola questa è una bella notizia per certi aspetti ma è anche una cruciale notizia per altri perché quando una cosa si fa una volta sola non si può sbagliare se si può poi in qualche modo riparare quindi provare a fare la seconda è un discorso ma con la morte non si fa la seconda con la morte c'è la prima o la va o la spacca come si dice o facciamo una santa morte l'unica che ci abbiamo a disposizione da fare oppure non la facciamo la santa morte quindi adesso mettiamoci in ascolto del grande maestro che è veramente un grande maestro sant'alfonso e oltre che un grande maestro è anche un grande santo un grandissimo testimone abbiamo già avuto modo di descrivere sono alcune tra le sue luminose eccellenti eroiche straordinarie virtù spero che tutti noi concepiamo sentimenti chiamiamoli così ma pensieri anche più che sentimenti di estrema venerazione nei confronti dei santi della chiesa cattolica sicuramente questi santi un pochino tradizionali dove adesso non vorrei fare il polemico cioè la canonizzazione era praticamente quasi necessaria perché è talmente evidente da tutto il contesto della vita del santo l'eroismo delle virtù la purezza della dottrina e tantissime volte anche i miracoli compiuti in vita quindi che altro ci vuole per canonizzarlo purtroppo qualche volta negli ultimi anni mi sembra insomma che un certo rigore sia un po' calato ecco nella nell'attenzione però questo opinione mia ha un passante strettamente personale per cui diamo oltre che dell'opinione mia il mondo può fare tranquillamente a meno ascoltando le parole di Sant'Alfonso a proposito appunto di questo capitolo certezza della morte punto primo è scritta la sentenza della morte per tutti gli uomini se uomo hai da morire dice Sant'Agostino c'è terra nostra bona et mala in certa sunt solo a mors certa est oh questo è l'acqua calda quindi la scoperta dell'America fatta 600 anni dopo ma 530 non proprio 600 insomma anni dopo però sembra che gli esseri umani abbiano dimenticato quando noi pensiamo il futuro io non so con certezza neanche cosa farò tra un quarto d'ora tu dici ma come non lo sai tra un quarto d'ora stai chiedendo stai continuando la catechesi questo dura tre quarti d'ora sono passati cinque minuti e tra un quarto d'ora stai continuando la catechesi sì forse potrei sentirmi male potrebbe venire un attacco d'allergia potrei dover andare che ne so qualche necessità fisiologica di corsa non è mai successo durante la catechesi non si sa mai oppure potrebbe prendermi infarto non faccio gesti apotropaici tanto se no se mi deve venire un infarto non mi viene ma io non posso essere sicuro neanche di quello che faccio tra un quarto d'ora certo che tutti quanti abbiamo la vita più o meno programmata so anche più o meno quello che farò terminata la catechesi nella giornata di domani che qui è un evento molto importante domani c'era super processione della madonna della vittoria se Dio vuole l'unica cosa futura certa che non si sa quando ma si sa che è la morte l'unica se metti periodi come questi che sono periodi di grandi punti di grandi punti interrogativi di grande incertezza sul futuro politico civile bellico ecclesiale dove ci porta l'onda dove andremo a finire boh ma sicuramente questo è sì è certo che presto tardi andremo a finire al cimitero sicuro cioè il cimitero è sicuro poi che ci sia altro e questo dobbiamo stabilirlo noi appurarlo noi ricercarlo noi verificarlo noi crederci noi proseguo la lettura è incerto se quel bambino che nasce dovrà essere povero o ricco se se ad avere buono o cattiva sanità sanità sarebbe salute se avrà da morire giovane o vecchio tutto è incerto ma certo è che ha da morire purtroppo se si vedono le cose sotto un certo punto di vista appena una creatura e hanno la luce comincia a conto alla rovescia chiaramente il conto alla rovescia la durata la sa solamente domine Dio sarà un lungo conto alla rovescia medio piccolo breve brevissimo questo lo so soltanto Dio ma sicuramente comincia dal countdown 100% ogni nobile ogni regnante ha da essere reciso dalla morte e quando giunge la morte non vi è forza che vi possa resistere si resiste al fuoco all'acqua al ferro tutte le persone sono state torturate e hanno resistito si resiste alla potenza dei principi ma non si può resistere alla morte e questa è sempre una citazione di Sant'Agostino che in latino suona così resistitur ignibus undis ferro resistitur regibus venet mors qui sei resistit narra il belluacense che un certo re di Francia giunto in fine della vita disse ecco che io con tutta la mia potenza non posso già ottenere che la morte mi aspetti un'ora di più ricordate no? Gesù nel Vangelo chi di voi per quanto si preoccupi può allungare di un'ora sola la sua vita? Matteo sei chi di noi? quando è veramente quando è venuto il termine della vita neppure per un momento si riferisce scrive si legge nel libro di Giobbe capitolo 14 versetto 5 costituisti terminos eius qui preteriri non poterunt è fissato un termine che oltrepassare non si può meglio gli hai fissato un termine costituisti terminos eius abbiate dunque a vivere letto romino tutti gli anni che sperate quindi ti fa un augurio ne vuoi tanti che il Signore ti riconceda ma ad avvenire un giorno e di quel giorno un'ora che sarà l'ultima per voi per me che ora scrivo per voi che leggete questo libretto sta già decretato il giorno il punto nel quale né io più scriverò né voi più leggerete qui se st'uomo qui vivite non vi devit mortem salmo 88 49 qual è l'uomo che vive e non vedrà la morte è fatta la condanna non vi è stato mai un uomo così pazzo che si sia lusingato di non avere a morire ciò che è successo ai vostri antenati ha da succedere anche a voi di quanti nel principio del secolo passato vivevano nella vostra patria ecco che nessuno è più vivo anche i principi monarchi della terra hanno mutato paese di loro non vi è altro qui rimasto che un mausoleo di marmo con una bella iscrizione la quale oggi serve a noi di insegnamento che dei grandi del mondo altro non resta che un poco di polvere chiusa tra le pietre domanda a San Bernardo dicmichi ubisunt amatore smundi penso si capisce lo dinosentice dimmi dove sono gli amatori del mondo e risponde nichil exeis remansit nulla è rimasto di loro nisi cineres et vermes se non cenere e vermi pertanto bisogna che ci procuriamo non quella fortuna che finisce ma quella che sarà eterna già che eterne sono le anime vostre cosa dice Gesù nel Vangelo procuratevi datevi pensiero non per il cibo che perisce ma per quello che non perisce che il figlio dell'uomo vi darà oggi è venerdì queste categorie si fanno di venerdì sicuramente molti degli ascoltatori hanno fatto il digiuno dal cibo non dall'eucaristia per quello ci scampi il Signore da fare mai il digiuno ovviamente per chi ha la possibilità di partecipare alla Santa Messa e fare la comunione io per quanto mi riguarda chiedetemi tutto ma non però se il Signore dovesse mettermi il digiuno da questo perché sono stato troppo cattivo per carità se Lui lo vuole si accetta altrimenti manco morto e quindi dobbiamo anche fare attenzione perché noi allora ho detto altre volte noi dobbiamo essere un pochino attenti perché la previdenza sociale per quanto riguarda la vita eterna ce la facciamo noi certo tutti quanti sono preoccupati di pagare i contributi o di versare anche i contributi volontari perché la pensione sia più grande perché dopo quando siamo vecchi che facciamo vabbè in questa vita ci sta ma c'è una previdenza sociale più importante che è la ricompensa delle nostre opere e questa ce la dobbiamo fare noi adesso chi ce la fa a che servirebbe riprendo la lettura l'essere felice semmai può darsi vera felicità in un'anima che sta senza Dio bellissimo se poi dovreste essere infelice per tutta l'eternità facciamoci questa domandina ma è veramente felice un'anima senza Dio noi pensiamo che i grandi della della terra i grandi magnati adesso c'è sta questa cosa qui no? io non conosco la situazione di fede dei grandi magnati quindi preferisco a non fare noi ma tutti sappiamo chi sono i grandi magnati di questo mondo no? magari sono credenti più di noi che ne sono un Elon Musk un Jeff Bezos un Bill Gates quelli che mi ricordo non mi ricordo come si chiama il patron di Google Zuckerberg di Facebook se questi non hanno Dio io non posso affermare con certezza perché non sono molto informato sulla loro condizione di vita sono felici? porco tutti i soldi che ci hanno perché ce l'hanno questo è sicuro io penso che questa domanda ce la dobbiamo porre anche io me la devo porre è felice una persona che fa così? noi dobbiamo farcela questa domanda certo? ma Sottacuino diceva che i soldi il potere successo benessere bellezza piacere della carne tutti venerei e gola sono quelli che costituiscono la felicità terrena e noi che pensiamo? non ci sembra forse che ci sono molti battezzati che pur non potendo certamente scatenarsi come i grandi i grandi abbienti però tutto sommato no? a che pensano la mattina e la sera? mangiare, bere e divertirsi? no? non tutti? qualcuno si però e quindi ci sono cristiani che di fatto però vivono come pagani perché la felicità terrena è per i pagani non è per i figli di Dio una delle primissime cose che narra Santa Bernadette Subiru della Madonna primissime incontri con lei non ti prometto la felicità in questo mondo ma nell'altro questo non lo dobbiamo dimenticare mai qui un'anima che è amica di Dio ha un inizio di felicità insieme a molte tribolazioni ecco perché è una felicità vera ma sui generis ma la felicità non consiste certamente nei canoni della felicità terrena e in ogni caso chi campa così poi se ne va all'inferno che fin hanno fatto i grandi già trapassati di vario genere lo chiediamo qualche volta abbiamo tanti esempi eccellenti di persone molto molto famose anche italiane che erano vecchissime gli auguriamo ogni bene possibile immaginabile ovviamente no? la salvezza e la beatitudine ma se non l'avessero raggiunta nessuno lo può sapere con certezza vi avete già fatta quella casa con tanta vostra soddisfazione ma pensate che presto dovrete lasciarla e andare a marciare in una fossa avete ottenuto quella dignità che vi rende superiore agli altri ma verrà la morte che vi renderà simile ai villani più vini della terra sapete che c'è un libro biblico che piace poco come a cui probabilmente piacciono poco anche questi discorsi che si chiama il Coelet e praticamente c'era una trilogia l'ho spiegato nelle catechesi bibiche che vedo su libri sapienziali risalente all'età patristica dei tre libri per i principianti i proficienti e i perfetti allora c'era il libro dei proverbi si principianti poi c'era il libro del Coelet proficienti e il cantico dei cantici per i perfetti questo perché? perché il libro dei proverbi è bello quindi dimostra la faccia affascinante della sapienza e quindi serve a muoverti a cominciare il cammino di conversione i principianti dopo di che dopo che ti sei che bello adesso però per raggiungere questa bellezza qui dobbiamo fare evidenza dobbiamo lasciare il mondo e i suoi piaceri dobbiamo rinunciarci i cristiani rinunciano a queste cose il Coelet se tu te leggi il Coelet vanità delle vanità tutto è vanità che significa vanità? è un inseguire il vento fumo significa cose che non sono durature per cui certamente in questo mondo possono servire servono di fatto ma non ti non ti c'è attaccare mai non pensare mai che siano fine non farne degli idoli allora fatti preghiere relativamente a questo primo punto ah povero me che per tanti anni non ho pensato che di offendervi oddio dell'anima mia ecco che questi anni sono già passati la morte forse mi è già vicina o che me ne trovo se non pene rimorsi di coscienza o vi avessi sempre servito signore mio pazzo che sono stato sono stato su questa terra a vivere già per tanti anni ed invece di acquistarmi meriti per l'altra vita mi sono caricato di debiti con la divina giustizia caro mio redentore datemi luce e forza di aggiustare al presente i conti la morte forse poco da me sta lontana voglio apparecchiarmi vedete apparecchio no apparecchiarmi quando apparecchiamo la tavola voglio apparecchiarmi per quel gran punto decisivo della mia felicità o infelicità eterna vi ringrazio di avermi aspettato finora e già che mi date tempo di rimediare al malfatto eccomi mio Dio ditemi che ho da fare per voi volete che io mi tolga delle offese che vi ho fatte io me ne tolgo me ne dispiace con tutta l'anima volete che io spenda questi anni o giorni che mi restano in amarvi sì che voglio farlo oddio per lo passato anche più volte ho risoluto di farlo ma le mie promesse sono diventate poi tradimenti no Gesù mio non voglio essere più in grado a tante grazie che mi avete fatto se almeno ora non muto vita ma come potrò in morte sperare perdono e paradiso ecco ora risolvo fermamente di mettermi a servirvi davvero ma voi datemi forza non mi abbandonate ma voi non mi avete abbandonato quando io gli offendevo dunque spero maggiormente il vostro aiuto ora che propongo di lasciare tutto per compiacervi vedete lasciare tutto per compiacervi accettatemi dunque ad amarmi o Dio degno di infinito amore accettate il traditore che ora pentito si abbraccia ai piedi vostri e vi ama e vi cerca pietà vi amo o Gesù mio vi amo con tutto il cuore vi amo più di me stesso eccomi sono vostro disponete di me e di tutte le mie cose come vi piace datemi la perseveranza nell'obbedirvi datemi il vostro amore e poi fate di me qualche volere Maria madre speranza rifugio mio a voi mi raccomando a voi consegno l'anima mia pregate Gesù per me quindi la coscienza di una persona specialmente chi scopre di essere stato oggettivamente o peggio ancora anche soggettivamente lontano da Dio che rientra in sé come figlio del Polio e dice ti ringrazio Signore che non l'ha fatto morire prima perché se morivo prima rischiavo brutto e adesso cerchiamo col tempo che ci rimane questa è l'unica cosa senza la da fare dolersi delle colpe il pentimento è sempre una cosa santa la disperazione mai usiamo bene il tempo che ci è rimasto qui ricordiamo sempre la bellissima parabola dell'opera dell'ultimo ora sapete perché quello prende la stessa cifra che hanno preso quelli delle nove perché proprio consapevole che ci mancava poco quello in un'ora ha orato a go go quindi con la sua lena con la sua voglia di fare tanto appunto perché c'era soltanto un'ora dice con un'ora me la devo guadagnare questa paga ha fatto forse più lui con un'ora che quelli con tutta la giornata questa è anche la bellezza della nostra fede la conversione è una cosa reale quando una persona cambia noi possiamo cambiare veramente è piena la storia della chiesa cioè di gente irriconoscibile la speranza c'è per tutti e non è mai troppo tardi solo dopo la morte è troppo tardi prima punto 2 statutum est è stabilito è decretato è certo dunque che tutti siamo condannati a morte che è contrario alla pena di morte tu puoi essere anche contrario alla pena di morte ma tanto condannati a morte ci siamo tutti tutti quanti anche se non abbiamo subito alcuna sentenza capitale perché ci siamo tutti nasciamo dice san cipriano sentite col capestro alla gola e quanti passi diamo tanto ci avviciniamo alla morte fratello mio siccome voi siete stato scritto un giorno nel libro del battesimo così avete un giorno ad essere scritto nel libro dei morti ah questo lo assicuro io faccio il parroco nei registri parrocchiali qui sotto c'è il registro dei battesimi e poi c'è il registro dei defunti tutti quelli che stanno scritto nel registro del battesimo un giorno saranno scritti nel registro dei defunti 100% magari sono andate a cambiare sono andate a via a Milano quindi saranno scritti nel registro del battesimo di Santa Maria Assunta in Cielo in Sermoneta e poi che ne so nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per quanto riguarda il registro dei defunti ma sicuro siccome voi nominate ora i vostri antenati la buona memoria di mio padre di mio zio di mio fratello così i vostri avranno da dire anche di voi siccome avete avuto più avete più volte udito suonare a morte degli altri così gli altri avranno da sentire suonare di voi io il funerale questo lo dico sempre amici miei perché il funerale deve essere anche un'occasione di edificazione fruttuosa per i presenti dico guardate oggi c'è l'ultimo guardate ci saremo tutti quanti noi e facciamo anche un'altra considerazione cina salutare se dentro quella barra oggi ci fossi io che gli racconterei al nostro signore perché qualcosa io devo raccontare il nostro signore che gli racconto come sto vivendo sto in grazia quanto è che non mi confesso quanto è che non faccio una comunione che non vado a messa ah io le dico queste cose quindi per chi suona la campana film storico un giorno suonerà per noi la campana morto 100% ma che direste voi se vedeste un condannato a morte che andasse al patibolo burlando ridendo girando gli occhi e pensando a commedia e festine spassi è matto uno che fa così no? andando al patibolo e voi ora che ammirate già la morte e a che pensate? interessantissima domanda appunto quella che cerco di stimolare durante i funerari sapete che siamo tutti condannati a morte? mi intanto dico ma tu ci credi veramente? siamo in chiesa no? ma ci credi che esiste la vita eterna? ci credi che la morte è un passaggio si stacca l'anima ma il corpo muore ma l'anima non può morire è immortale ci credi che c'è qualcosa dopo? e se ci credi se ti può dentro questo qualcosa com'è sto qualcosa? è bello è brutto? c'è il bello e il brutto? e tutti vanno al bello perché insomma Dio è talmente buono che ci mandano tutti lì? qualunque sia la vita che uno ha fatto allo stesso livello noi dobbiamo farcele queste domande non ci può fare nessuno al posto nostro nessuno le può fare al posto nostro dobbiamo farcele noi e questo è il problema dei problemi capite? il mondo di oggi qui stiamo in mezzo una banda di matti guardate là in quella fossa con i vostri amici e parenti proseguro lettura per cui già si è eseguita la giustizia che spavento dà ai condannati il vedere sulla forca i compagni già appesi e morti guardate quei cadaveri ognuno dei quali vi dice Michi eri et tibi odie a me ieri a te oggi lo stesso vi dicono ancora i ritratti dei vostri parenti defunti ci sono tante belle foto di là i miei cari santi papà e mamma sono anni che non li vedo più la verità i loro libri di memoria le case i letti le vestite a loro lasciate quale pazzia maggiore è dunque sapere che si ha da morire e che dopo la morte c'è da toccare un'eternità di gaudi o un'eternità di pene pensare che da quel punto dipende l'essere o eternamente felice o eternamente felice e poi non pensare ad aggiustare i conti e prendere tutti i mezzi per fare una buona morte ma lo capite che pazzi da ricovero che siamo però vedete qual è il punto il punto pericolosissimo per oggi è che cominciano a dire l'inferno non esiste qualcuno oppure sì no esiste però è vuoto oppure no sì no esiste non è vuoto perché Gesù dice che non è vuoto però forse sarebbe lecito sperarlo o neanche questa sì no l'inferno esiste non è vuoto e non è manco legito sperare però non possiamo sapere con certezza nessuno di quelli che ci sono andati perché la Chiesa canonizza soltanto i santi ma non canonizza nessun dannato cioè tutti questi modi di pensare o di dire se ti penetrano dentro il cervello è la fine così come una malintesa dottrina sulla misericordia io questo l'ho detto c'è una montagna di volte e continuo a ripeterlo perché i fiori santi hanno detto tra cui San Giovanni Bosco che non è certamente l'ultimo della classe che una malcompresa dottrina della misericordia serve a riempire l'inferno non a portare le anime in paradiso io da sacerdote per questo che predico in un certo modo io sono un briciolo di coscienza ma scusate pensate che quando io vado a fare un sacco di funerali ma lo dico anche demora una persona mai vista in Chiesa mai mai poi magari viene anche a sapere tante particolari mai confessione non pervenuta comunione non pervenuta olio santo non pervenuto diatico non pervenuto preghiera di raccomandazione dell'anima non pervenuto io devo fare il funerale io ho capito che non posso giudicare non devo giudicare che giudica soltanto il padre speriamo che si è pentito a un punto di morte ma non è che si può sempre stare a sperare che uno si pente a un punto di morte o che fondiamo la speranza della salvezza sui pentimenti in punto di morte di una persona che ha avuto una vita da senza Dio e che va a fare il funerale in Chiesa semplicemente perché è battezzato perché dove lo porti e poi magari dopo il funerale appicciano il fuoco e si fa da fuoco per carità a scanso di equivoci cosa che adesso la legge della Chiesa permette ma come ha scritto il cardinal Müller nella famosa istruzione del 2014 non ricordo male permette non vuol dire che incoraggia o che fomenta caldeggia perché la Chiesa fomenta incoraggia e caldeggia l'inumazione non l'appicciare il fuoco per motivi che adesso non è il caso di approfondire in questa serie perché dobbiamo finire sto capitolo quindi un pazzo è quello che va verso la morte da scriteriato senza pensarci e senza prepararsi un pazzo voi sapete che una delle cose più grandi dei dannati è che che si dicono da solo io sono stato un pazzo un pazzo e c'hanno il rimorso per tutta l'eternità perché ripeto non c'era il secondo round diceva moro vado all'inferno adesso però ritorna così hai visto rimedia no questo è successo a Gloria Polo ciclo di catechesi fatto l'anno scorso due anni fa mi raccomando molto seguito sentitelo ma non è che è morta veramente un'esperienza del tutto eccezionale quella si è accorta che se fosse morta in quel momento andava dritta all'inferno e si pensava di essere una brava cristiana una brava cattolica andava pure qualche volta ammessa una professionista seria reprensibile andate 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 a sentire catechesi o a leggere la sua testimonianza e è tornata sulla terra dicendo tu torni ma ripeterai questa cosa migliaia di volte per aiutare le persone il nostro signore fa le cose in maniera intelligente perché gli ha fatto fare questa cosa perché la gente oggi che esiste in inferno non ci crede o se anche ci crede in linea teorica che ci vado io no per carità io non faccio male a nessuno io sono una brava persona noi dobbiamo pensare io tutti i giorni prego il signore che me lo risparmia l'inferno non ho paura di dirlo non mi sembra in questo momento non mi sembra di fare peccatacci tali da meritare alla dannazione ma primo non mi sembra e secondo chi l'ha detto che non li farò domani se mi impazzisco spero di no non voglio ma non possiamo noi essere così stupidi da essere certi io sono sicuro che sarò salvo e cadere al paradiso ma che siamo matti non bisogna mai pensare questa cosa San Paolo scrive attendete la vostra salvezza con timore e tremore tutti tutti nessuno escluso e questo non perché ci venga paura ma perché possiamo perché dobbiamo vivere una vita in tensione il signore ci aiuterà ci darà tutte avanti le grazie ci darà tutti avanti gli aiuti ma noi non possiamo essere sciocchi o presumere che io non ero in paradiso perché ma ti te l'ha detto a te noi compatiamo quelli che coloro che muoiono di subito e non si trovano apparecchiati alla morte e noi perché poi non procuriamo di stare apparecchiati potendo anche noi accadere lo stesso allora attenzione spero di riuscire a finire i punti perché avete capito che ho detto qui Sant'Alfonso in un italiano un pochino arcaico noi compatiamo coloro che muoiono di subito cioè all'improvviso perché non stanno pronti alla morte se ti viene un infarto a 50 anni come è successo a mio zio non lo ricordo benissimo esce un pomeriggio 50 anni in macchina infarto e non rientra a casa io non lo ricordo ero piccolo era il 78 7 anni allora ma secondo voi oggi la maggioranza della gente in un caso fermo le stando per carità poveraccia è morto no ma se dovessi chiedere vai stanotte a letto e non ti alzi più è una bella morte o è una brutta morte una volta si pensava è una bruttissima morte perché perché potresti non essere pronto meglio prima della morte che uno sta male quindi capisce che la morte si avvicina così confessione generale unzione diatico ti prepari anche la preparazione prossima alla morte perché se la morte ti coglie impreparato una volta ci credevano che te ne avevi all'inferno adesso oh beato lui non se ne è accorto nemmeno la cosa importante è che non te ne accorgi nemmeno secondo la mentalità comune di oggi una volta la reputavano una disgrazia tu dici compadisci dici sei preoccupato dici poveraccio quello che è morto all'improvviso che non si è potuto preparare tu ti prepari questo sta dicendo tanto Alfonso qui ma presto o tardi o con avviso improvvisamente o ci pensiamo o non ci pensiamo abbiamo da morire e in ogni ora in ogni momento ci accostiamo alla nostra forca vedete ogni volta Sant'Alfonso usa qualche espressione che io mi immagino oggi fortuna che le dice lui eh lo 5 di Catechezi fortuna che leggo perché se se lo dicessi io cioè buttiamo questo libretto qui no dico uè amico guarda che di ogni ora e di ogni momento ci accostiamo alla nostra forca che sarà appunto quell'ultima infermità che c'è da cacciare dal mondo sarebbe accettato questo linguaggio nell'attuale contesto in cui ci troviamo speriamo di sì però io qualche qualche dubbio ce l'ho in ogni secolo in ogni secolo le case le piazze le città si riempiono di gente nuova ed i primi sono portati a chiudersi nei sepolcri gente nuova quelli stanno a trovarci timidero oggi alcuni stanno se sa dove perché li hanno appicciati e pazienza siccome per coloro sono finiti i giorni della vita così verrà il tempo in cui né io né voi né alcuno di quanti al presente viviamo vivremo più su questa terra i giorni erano fissati quando ancora non esisteva uno dice il salmo 138 abbiamo i giorni fissati saremo allora tutti nell'eternità la quale sarà per noi un eterno giorno di delizie o un'eterna notte dei tormenti non c'è via di mezzo è certo è di fede che l'una o l'altra sorta c'è da toccare perché il purgatorio è limbo anche il limbo che per quanto mi riguarda esiste e non è eterno sono condizioni temporanei perché le anime del purgatorio e le anime del limbo che non hanno peccati attuali propri non sono dannati e alla fine andranno in paradiso ne resteranno soltanto due paradiso e inferno come chiaramente Gesù spiega in Matteo 25 giudizio universale ma non solo anche in altri svariati luoghi del Vangelo affetti e preghiere del punto secondo amato mio Redentore non avrei a dire di comparirvi davanti se non vi riminassi appeso a questa croce lacerato schernito e morto per me ma è più grande la vostra misericordia dinanzi alla mia grande ingratitudine sono stati grandi i miei peccati ma sono più grandi i vostri mediti le vostre piaghe il vostro sangue e la vostra morte sono la speranza mia io meritavo l'inferno dal punto del primo mio peccato appresso io tante volte ho tornato ad offendervi e voi non solo mi avete conservato in vita ma con tanta benità e con tanto amore mi avete chiamato a perdono e mi avete offerto la pace come posso ora temere che mi riscacciate da voi ora che vamo ed altro non desidero che la grazia è vostra pensiamoci ogni tanto ogni peccato mortale che abbiamo commesso ogni se fossimo morti prima del pentimento e della confessione che fine facevamo e quante volte abbiamo meritato l'inferno ecco perché bisogna contare i numeri anche dei peccati mortali tante volte quanto abbiamo peccato mortalmente e se non ci andremo nonostante tutto questo sia gloria alla divina misericordia si vi amo con tutto il cuore caro mio signore ed altro non desidero che amarvi vi amo e mi pento di avervi disprezzato non tanto per l'inferno che mi sono meritato quanto per aver offeso voi vedete l'atto di dolore mio dio che mi avete tanto amato vedete anche nell'atto di di dolore qualcuno vorrebbe togliere perché peccando non meritato i tuoi castigli perché oggi ma appena si parla di queste cose allora i castigli che si meritano con il peccato lo sono due non solo che ci sono due sono quelli temporali che sono quelli che il signore ci manda quando non ha altri sistemi oppure giudica non esserci altri sistemi per indurci a convertirci sono medicine anche se dolorose come quando tu devi fare il tumore e devi fare la chemioterapia questo è il castigo temporale ma ci sono i castigli eterni se muori in stato di peccato mortale c'è l'inferno ah no 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 perché peccando mi hai dato i castigli no come no sta piena la bibbia di questa roba qui per chi vuole come no come no e molto più perché ho offeso voi certo questa è la contrizione che è la cosa molto più grave cioè offendere Dio è molto più grave che andare all'inferno molto più grave via su Gesù mi aprite a me il seno della vostra bontà aggiungete misericordia e misericordia fate che io non sia più in grado mutatemi in tutto il cuore fate che il mio cuore che un tempo niente ha stimato il vostro amore questo se è successo dobbiamo pentirci e l'ha cambiato per misi ricusti di questa terra ora sia tutto vostro ed arda in continue fiamme per voi bello eh io spero di venire in paradiso per sempre ad amarvi e vi non può toccarmi il luogo fra gli innocenti mi toccherà stare tra i penitenti ma tra questi io voglio amarvi più degli innocenti guardate che bello anche la speranza per i grandi peccatori per gloria della vostra misericordia veda il paradiso ardere in un grande amore un peccatore che vi ha tanto offeso io risolvo da oggi in avanti di essere tutto vostro e di non pensare ad altro che ad amare assistetemi voi con la vostra luce con la vostra grazia che mi dia forza ad eseguire questo mio desiderio che voi stesso mi date per vostra bontà oh Maria voi siete la madre della persperseveranza impetratemi l'essere fedele in questa mia promessa punto terzo la morte è certa sempre così comincia ma oddio che ciò lo sanno già i cristiani lo credono lo vedono e come mai poi tanti vivono talmente scordati della morte come se non avessero mai a morire già ho fatto qualche considerazione al riguardo se non vi fosse dopo questa vita né inferno né paradiso potrebbero pensarci meno di quello che fanno ora e perciò fanno la mala vita che fanno nessuno farebbe una vita disordinata se pensasse seriamente a queste cose ecco perché un tempo le meditazioni sulla morte erano oltremodo raccomandati da tutti i maestri di spirito e oggi che cosa fanno questi intelligentoni di oggi regola numero uno non pensare alla morte applicare la massima da idioti di epicuro quando io ci sono la morte non c'è e quando la morte non c'è non ci sono io e buonanotte a tutti quindi la patente dell'idiozia allo stato puro fratello mio se volete vivere bene procurate di vivere in questi giorni che vi restano a vista della morte io ho scritto un libretto piccolo piccolo che si chiama i novissimi quando faccio qualcuno mi chiede la dedica a questo libretto ci scrivo guarda la contemplazione delle verità etere questo è il senso ti aiuti a ben vivere la contemplazione delle verità ultime ma soprattutto ti prepari a ben morire perché i novissimi dobbiamo pensarci spesso morte giudizio inferno e paradiso questi sono i quattro i novissimi o come giudica le cose e dirige le sue azioni chi le giudica e dirige a vista della morte a vista della morte la memoria della morte fa perdere l'affetto a tutte le cose di questa terra considera il termine della vita e non ci sarà in questo mondo niente da amare dice San Lorenzo Giustiniano omne quod immundo est concupiscenza carnis est concupiscenza colorame superbe vite questo lo dice San Giovanni evangelista nella prima lettera capitolo 2 versetto 16 tutto ciò che è nel mondo è concupiscenza della carne concupiscenza degli occhi superbi della vita questo è il mondo che non possiamo amare e con cui non possiamo fare pace chi ama il mondo scrive San Giovanni l'amore di Dio non è in lui non c'è nessun accordo tra noi e il mondo non possiamo essere mondani noi cristiani e non possiamo scendere a compromessi a patti o ammiccare o sorridere al mondo e mondani il mondo noi lo chiamiamo a conversione non ci scendiamo a compromessi o a patti tutti i beni del mondo si riducono a piacere di sensi a robe e ad onori ma ben disprezza tutto chi pensa che tra poco ha da ridursi in cenere ed essere posto sotto terra per pascolo di vermi ogni tanto è bene ricordare ed infatti a vista della morte i santi hanno disprezzato tutti i beni di questa terra perciò San Carlo Borromeo si teneva sul tavolino un teschio di morto per mirarlo continuamente avete visto quanti santi raffigurati con il teschio di morto no? pensate se ce l'avessimo noi oggi dentro casa entra qualcuno e poi chiama al 113 ma i santi ce l'avevano il cardinal Baronio sull'anello presumibilmente episcopale se era un cardinale teneva scritto un momento mori e ricordati che devi morire il venerabile padre giovenale Ancina Vescovo di Saruzio teneva scritto sopra un altro teschio di morto il motto come tu sei fui pur io e come io sono sarai pur tuo anche io ho visto un ossario una volta sapete quali sono gli ossari no? c'era scritto sopra l'ossario quello che voi siete fummo quello che noi siamo sarete bisogna ricordarselo ogni tanto un altro santo eremita dimandato in morte perché stesse con tanta allegrezza rispose io ho tenuto spesso avanti gli occhi la morte e perciò ora che è giunta non vedo cosa nuova tutti i giorni ci ho pensato quindi benvenuta diceva che pazzia sarebbe un viandante se viaggiando pensasse a farsi grande in quel paese per dove passa e non si curasse di ridursi proprio a vivere miseramente in quello dove va da stare in tutta la sua vita pazzo no? e non è pazzo chi pensa a farsi felice in questo mondo dove ha da stare pochi giorni e si mette a rischio di farsi infelice nell'altro dove avrà da vivere in eterno chi tiene una cosa aliena in prestito poco ci pone affetto pensando che tra poco la deve restituire i beni di questa terra tutti ci sono dati in prestito è sciocchezza a metterci affetto dovendoli tra poco lasciare la morte c'è da spogliare di tutto tutti gli acquisti e fortuna di questo mondo vanno a terminare ad un'aperta di bocca ad un funerale e ad un'ascesa in una fossa la casa da voi fabbricata tra poco dovrete cederla ad altri il sepolcro sarà l'abitazione del vostro corpo fino al giorno del giudizio oggi ahimè non per tutti perdonatemi se insisto su questa cosa ma io vedere la scena non posso farlo da parro quando vedo scritto nei certificati di morte che ti lasciano a voi pre-funer cremato oppure cimitero di distrazione no cremato oppure uno che sta un io mi sento male e di là dovrà poi passare al paradiso all'inferno dove già prima sarà andata l'anima quindi il sepolcro sarà l'abitazione del vostro corpo fino al giorno del giudizio e di là dovrà passare al paradiso all'inferno dove già prima è stata l'anima tre minuti al volo che siamo già fuori tempo massimo per leggere gli affetti e le preghiere e chiudere così al volo questa nuova puntata di questo ciclo dunque morte tutto sarà finito per me altro loro non mi troverò mio dio che quel poco che ho fatto per vostro amore e che aspetto aspetto che venga la morte e mi trovi così misero ed infangato di colpi come al presente sono se ora dovessi morire morirei molto inquieto e molto scontento della vita fatta no Gesù mio non voglio morire così scontento vi ringrazio che mi date tempo di piangere dei miei peccati ed amarvi voglio cominciare da questo punto dipento sopra ogni mare di avervi offeso sommo bene e vi amo più di ogni cosa più della mia vita tutto a voi mi dono Gesù mio da ora vi abbraccio vi stringo al mio cuore e da ora vi consegno tutta l'anima mia in mano stua scommendo spirito non voglio aspettare a darvela quando le sarà intimata la partenza da questo mondo non voglio aspettare a pregarvi allora che mi salviate Gesù sì per me Gesù Salvatore mio ora salvatemi con perdonarmi e donarmi la grazia del vostro santo amore chissà se questa considerazione che oggi ho letta è l'ultima chiamata che voi mi fate è l'ultima misericordia che mi usate stendete sulla mano amore mio e cacciatemi dal fango della mia tiepidezza datemi fervore fate che vi ubbidisca con grande amore in tutto quello che da me cercate eterno padre per l'amore di Gesù Cristo datemi la santa perseveranza e la grazia di amarvi e amarvi assai in questa vita che mi resta don Maria madre di misericordia per l'amore che portate al vostro Gesù ottenetemi queste due grazie perseveranza e amore ecco ottimo modo per chiudere chiediamo alla Madonna che ci dia queste due grazie perseveranza e amore audentur Jesus et Maria di benedica e la santa vergine vi protegga alla prossima a me Maria grazie a tutti a me Maria Grazie a tutti